Ciao amici, finalmente oggi condivido con voi la ricetta della torta alla zucca che vi ho fatto vedere in un precedente What I Eat in LA. Siamo a maggio ma ancora utilizziamo la zucca in casa e quindi iniziamo subito con la ricetta. Vado ad unire tutti gli ingredienti secchi, quindi farina, zucchero di canna, vado anche aggiungere mezzo cucchiainino di zenzero in polvere e il lievito per dolci. Do una mescolata veloce e vado con gli ingredienti liquidi, quindi l'olio di semi di girasole, latte vegetale, ho utilizzato quello di riso, mescolata al volo, aggiungo altro latte in modo tale da raggiungere questa consistenza abbastanza densa. Metto da parte il mio impasto e dopo aver cotto la zucca al microonde, quindi dopo averla fatta ammorbidire bene, posso andare con una forchetta a schiacciarla in modo tale da creare una crema di zucca che poi andrò a trasferire in un altro piatto e a far freddare. Unisco il mio impasto anche dei fichi secchi o delle noci, comunque sia della frutta secca in generale. Vado a questo punto ad unire la crema di zucca, il purè di zucca, chiamiamolo così, all'impasto e vado a mescolare super bene. Vado a trasferire l'impasto in una teglia foderata con carta a forno. Per quanto riguarda invece la cottura, io l'ho cotta in forno statico per circa 30 minuti. Tenetela ad occhio, fate ovviamente la prova a stecchino perché la cottura dipende moltissimo dal vostro forno. La prova a stecchino vi aiuterà a capire se appunto la torta sarà comunque abbastanza asciutta al suo interno. Fate conto che nel tempo che si raffredderà continuerà la cottura. Come vedete questa torta ha un aspetto fantastico dei colori super accesi dovuti appunto alla zucca che dona un sapore ottimo perché è comunque dolce molto dai sapori invernali nonostante siamo a maggio, ma a me piace tantissimo usata nei dolci ed è buonissima. Mi raccomando se farete questa ricetta fatemi sapere e magari fatemelo sapere su Instagram comunque sia fatemelo sapere in qualche modo. A me piace tantissimo quando rifate le nostre ricette. Vi mando un bacio grandissimo se siete ancora qua a guardare il video lasciate nei commenti hashtag torta alla zucca. Vi mando un bacio grandissimo, vi voglio tanto bene, al prossimo video!